Ciao ragazze! Allora, finalmente oggi vi faccio il video haul delle cosine che ho preso a Los Angeles Allora, sono tantissimissimissime, veramente, cioè, mi sono andata alla pazza gioia A parte che, vabbè, Los Angeles è stato pazzesco, se mi seguite su Instagram sapete quanto mi sono divertita E, veramente, poi sono stata quella mia migliore amica, tipo, di sempre, quindi è stato fantastico E anche lo shopping rifletteciò, nel senso che ho fatto pure troppo shopping, diciamo così E poi vi farò vedere anche un paio di cose che ho preso prima e subito dopo essere tornata da Los Angeles Appunto, che tra l'altro ci devo tornare ad inizio ottobre Non vedo l'ora, ma iniziamo subito perché sono talmente tante le cose che vi devo far vedere Che non so quanto potrà durare questo video, quindi preparatevi Iniziamo con le cosine che ho preso da Sephora e mi sono concentrata naturalmente su quello che non riesco a trovare in Europa Allora, prima cosa che ho preso, vabbè, in realtà ho preso una beauty blender, quella semplicissima, rosa, normalissima Perché quella che avevo prima l'avevo disintegrata praticamente Quindi ne ho preso un altro uguale, ma sta là sulla scrivania ed è già sporchissima perché la sto usando da quando sono tornata Ma, una cosa che ho trovato e che non avevo mai visto in giro e che mai incuriosito Sono queste due micro mini, c'è scritto proprio micro mini beauty blenders Che sono veramente minuscolissime e purtroppo c'erano solo in questo colore tipo lime Ma sono curiosissima di provarle, in realtà sarebbero per quelle zone difficili da raggiungere Tipo l'angolo interno dell'occhio oppure gli angolini del naso, insomma Secondo me sono molto molto utili, naturalmente vi farò vedere come funzionano E insomma vi racconterò se mi ci sono trovata bene Ma non ho dubbi perché con la beauty blender grande mi trovo da dio, lo sapete Poi, altra cosa che ho preso, allora questo in realtà già l'avete visto nel mio video sui preferiti Dovevo assolutamente includerlo in quel video perché amo questo smalto Ed è appunto lo smalto Louboutin, appunto questo coso Ricorda il tacco spillo di una scarpa anche se fa abbastanza impressione Poi è gigantesco, ma è un rosso classico, è praticamente il rosso classico della suola delle Louboutin Poi, ah, per la prima volta in vita mia ho notato lo stand perché a New York non l'avevo vista sinceramente Ho trovato la Kat Von D e mamma mia, la linea di rossetti opachi che ha questo brand mi fa impazzire E ne ho presi due, mi sono trattenuta credetemi perché sono qualcosa di pazzesco Ed ho preso uno che è questo arancio, questo è completamente opaco, è un arancio stupendo Proprio un arancio pieno, di solito trovo rossetti che sono rosso aranciati Questo invece è proprio arancio e amo questo rossetto E forse addirittura un pochino più arancio rispetto a quello che ho dell'Ilamas Che tra l'altro questo rossetto l'ho indossato nel video giveaway Too Faced Che non so se andrà in onda prima o dopo questo video Però quello è il rossetto che stavo indossando Cioè questo è il rossetto che stavo indossando in quel video E poi altro rossetto che ho preso, sempre della Kat Von D È un nude È appunto un nude rosato, molto chiaro, stupendo Con gli smokey eye E ultimamente indosso nude un pochino magari più color carne Questo invece è appunto un pochino più sul rosa Mi è piaciuto subito E non ho uno rossetto che gli assomigli Naturalmente vabbè Io avrò tipo 500 miliardi di rosa e di nude rosati opachi Però vi garantisco che uno così non ce l'ho Crediamoci Poi altra cosa che ho preso è Allora non mi ricordo nemmeno Allora sì Questo è un rossetto Make Up For Ever E se non sbaglio pure questo è un arancio Sì Anche questo è un arancio opaco È stupendo anche questo Sono un po' fissata con gli arancio Con i rossetti opachi sicuramente Però ancora di più con i rossetti aranciati E questo non so se è completamente opaco o no Questo mi sembra un pochino più satinato Ma mi piaceva talmente tanto il colore pieno di questo prodotto Che ho voluto prenderlo E poi non avevo Non ho mai provato rossetti devo dire Della Make Up For Ever Quindi sono curiosa di vedere come sono E poi Ultima cosa che ho preso E naturalmente Ah vabbè Poi ho fregato uno scovolino Io cioè in qualsiasi profumeria vada Mac Sephora Ovunque Douglas Io rubo sempre questi scovolini Ma perché mi servono per pettinare le ciglia Sapete che ho l'extensione Quindi sono sempre alla ricerca di questi scovolini E poi altra cosa che ho preso Anche questo No questo brand in realtà Secondo me lo trovo qui ad Amsterdam Ma fa niente E ho preso questo rossetto Smashbox Indovinate il finish di questo rossetto Sì pure questo opaco Ed è Ho già qualche rossetto della Smashbox in realtà Ma non ne ho di opachi E questo è un rosa È più rosa È meno nude rispetto all'altro È un rosa stupendo Un po' il mio Il mio classico rosa Barbie Mi piace tanto dire rosa Barbie E quindi questi sono Sì questi sono gli acquisti che ho fatto da Sephora Poi Come sapete sono stata da Too Faced Nella loro sede Californiana Per un meeting E naturalmente Sono stati carinissimi Perché mi hanno fatto trovare questa borsa Piena zeppa di prodotti Adesso vedrete tutto quanto Allora Prima cosa sono tutti questi rossetti Melted Metal Come sapete sono pazza per i rossetti melted Quelli semplici Che sono tipo Hanno un finish Satinato Quindi mi piacciono molto per questo finish Ma questi sono nuovissimi Ed hanno tipo dei micro glitterini Se ho capito bene Devo ancora vederli sinceramente Ma sono appunto Di questa nuova linea Siccome ho detto La ragazza Che anche lei si chiama Nicole Di Too Faced Le ho detto Guarda Non li ho i metal I melted metal Me li ha dati praticamente tutti Sono molto molto curiosa di provarli E tra l'altro Fatemi sapere se sareste interessate ad un giveaway su Instagram Magari con questi prodotti Perché So che sono nuovi Quindi siete sempre interessate Alle novità Fatemi sapere nei commenti E questi vanno tutti dalle Sono tutti sulle tonalità del rosa Del viola Del pesca Poi Due prodotti Questi in realtà Li ho presi All'evento Too Faced C'erano un sacco di prodotti lì Che potevamo prendere E portare a casa E E ho notato due Che non avevo E quindi ho preso Il melted Frosting Ed il melted Velvet Sono entrambi splendidi Il velvet È un rosso Freddo Stupendo Veramente Che non vedo l'ora di indossare Questo autunno Insomma Quell'autunno Mi butto sempre un po' più su tonalità Un pochino più scure Per le labbra Invece in estate ho sempre colori molto chiari E poi Allora Altra cosa che c'è In realtà sto scoprendo con voi C'è il Better Than False Lashes Extreme E questo è una Sono base Ah no Fibre Fantastico Sono fibre E mascara Quando non ho l'extension alle ciglia L'unica cosa che mi salva Veramente Sono le fibre Perché almeno quelle si vedono Sulle mie ciglia Che sono veramente Cioè Ridicolosamente Insulse Se non ho l'extension Altra cosa che ho preso all'evento Perché avevo notato di non avere Cioè avevo notato di non avere È la Lip Insurance Original E questo è un lip primer E perché mi piace così tanto Perché è Demi Matte Quindi è praticamente opaco E va benissimo Come base per i rossetti opachi Molto spesso ho difficoltà Ad applicare gloss O basi particolari Per i rossetti opachi Perché se vado a metterci la base Tipo lucida E poi metto il rossetto opaco su Si vede che comunque non è opaco al 100% Che è quello che piace a me E quindi Ho grosse aspettative per questa base Devo assolutamente provarla E poi Allora Altra cosa Ah sì Allora Un'altra cosa che ho ricevuto Questo è il Cocoa Contour E questo è in realtà Eccolo qua È un kit per il contouring Che sa di cacao Infatti mi fa impazzire letteralmente E qui c'è sia un illuminante Matte Poi c'è una terra Di tonalità media Un'altra terra Secondo me sono più o meno Della stessa tonalità Però una più fredda Una più calda E poi c'è questo illuminante E questo piccolo cabucchino Altra cosa che ho ricevuto E questa palette Che credo sia Tipo l'unica palette Too fast Che ancora non avevo E questa è la Natural Eyes Ho un'altra palette Simile naturale Ma quella è completamente opaca Questa invece ha colori Sia opachi Che brillanti Satinati Addirittura glitterati E sono tutti Su tonalità Molto appunto Naturali Ma va Ho scoperto l'acqua calda Ma mi piace Queste palette Con colori naturali Mi piacciono Perché quando viaggio O anche quando sono di fretta Non so che trucco realizzare Prendo una palette So che gli abbinamenti Insomma che i colori Si abbineranno bene Tra di loro E poi le amo Per gli smoky marroni scuri Voi sapete che io Amo fare smoky scuri marroni Infatti è quello che ho anche oggi Poi Altra cosa che c'era Nella borsetta Too Faced Ma questa in realtà L'ho presa da Bath & Body Works Che è una specie di Negozio americano Che ha tutto prodotti Per il bagno E cose carine Insomma A parte che Avevano delle candele Gigantesche Profumate Che mi facevano impazzire Ma siccome erano pesantissime In vetro eccetera E siccome il mio bagaglio Già stava molto oltre I chili Permessi Insomma Dalla compagnia aerea Non ho potuto prendere Nessuna candeline Quindi l'unica cosa Sfigatissima Che ho preso da quel negozio Piangendo Credetemi E questo Che è un igienizzante Insulsissimo No vabbè È un igienizzante Per le mani Ma mi piaceva Perché A è rosa B c'è la Torre Eiffel Disegnata sopra C'è scritto Parigi C è pieno di glitterini Quindi E io poi Devo sempre avere Un igienizzante Per le mani A portata Di mano Poi Questa è una cosina Che ho preso Da Louis Vuitton Prima di partire Sì Tipo il giorno Prima di partire Per Los Angeles E sono un paio Di orecchini Sono fissata Con gli orecchini Dorati Che siano abbastanza Appariscenti Tipo questi Che mi avete chiesto In tantissimi Dove ho preso questi E sono di Forever 21 E ho pagati pochissimo Li adoro Ma Un'altra Appunto Un altro paio Di orecchini Di cui mi sono Innamorata follemente E non li avevo visti Da nessuna parte Prima Quindi Penso di essere stata Abbastanza fortunata A trovarli Sono questi Appunto Questi orecchini Sono a forma Di triangolino In realtà È una V Appunto Per Vitton Mi sono piaciuti Subito un sacco Li ho indossati Molto anche A Los Angeles Ma poi li ho rimessi Subito nella scatolina E nella dust bag Per farveli vedere Perché mi piace sempre Quando faccio i video haul Mi piace sempre avere Scatola Borsetta E tutto quanto Da farvi vedere Perché altrimenti C'è Non lo so Mi piace Poi Altra cosa che ho preso Mi hanno dato questa borsa Gigantesca Ma in realtà La scatola è piccolina Sono andata anche Da Saint Laurent A Beverly Hills Siamo stati Al Beverly Hills Center E Eccola qua la scatolina E quello Che ho preso Anche questo Un gioiellino E quello che ho preso È piccolo 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 È un anellino Anche questo dorato Che tra l'altro È della stessa collezione Del bracciale Che ho E che amo Lo indosso sempre Lo sapete E questo è appunto Un anellino È semplice 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 Dorato Con Un ciondolino Ed è appunto Il logo Il Saint Laurent Quindi Questo mi è piaciuto Subito Non l'avevo visto Qui purtroppo Ad Amsterdam Il negozio Saint Laurent Non c'è E quindi Devo contentarmi Di quello che trovo Appena vedo Questo brand in giro Tipo impazzisco Poi Come sapete Il motivo Principale Per cui sono stata A Los Angeles Era partecipare Al Beautycom Che è questa Convention Per le youtuber Insomma Di tutto il mondo E Ci hanno dato Questa borsa Della NYX Questa valigetta Molto professional Che è strapiena Di prodotti NYX Che adesso vi farò vedere Non ci potevo credere Stavo là Tipo come una bambina Che scoprivo tutte le robe E dentro È strapieno Di tipo Beautycase Vari E sono tutti Pieni di prodotti Allora Vediamo La prima cosa È questo portapennelli In pelle Molto molto carino È qui In questo Beautycase Se riesco a farvelo Vedere Qui ci sono Tutti i pennelli Sono veramente Tantissimi E c'è Un Beautycase Per i pennelli Da viso E poi Ce n'è Un altro Anche questi Sarebbero Una bella idea Per un giveaway Cosa dite Scrivetemi Nei commenti Cosa vi piacerebbe Vedere in un giveaway Su Instagram E queste Invece E questi invece Sono i pennelli Da viso Non ve li faccio vedere Uno per uno Perché veramente Penso che staremo qua Fino a Natale Però Sono davvero Tantissimi Qui dentro In quest'altro Beautycase Ecco se riuscite a vedere Qui dentro Invece ci sono Tutti i nuovissimi Colori E quello che mi salta All'occhio prima Che naturalmente È l'unico Che ho già aperto Per testare È il Orange County Questi sono Tipo dei rossetti Liquidi Opachi Potete immaginare Il mio entusiasmo Quando ho visto Che erano opachi E quindi appena ho visto Questo arancio L'ho subito provato Allora Questi prodotti Sono nuovi Li ho visti Suociati Ovunque Su internet Mi ispiravano Un sacco Quindi appena Mi sono resa conto Di averli Tutti Sono impazzita E non li ho ancora Testati sulle labbra Però quindi voglio vedere Il risultato Magari li userò In un tutorial Così vedete anche voi La prova su strada Insomma com'è Ma le colorazioni Promettono molto Molto bene In quest'altro Beauty case Invece ci sono I Correttori Mi vengono le parole I correttori Appunto NYX Sono Tutti di tonalità Diverse Quindi devo trovare La mia Che probabilmente Sarà questa Più chiara Ed è waterproof Questo è molto Interessante Il fatto che sia Waterproof Non perché Devo andare Al mare Particolarmente Usando il correttore Ma più che altro Perché Quando fa caldo Se sudiamo Avere un correttore Waterproof È molto utile In quest'altro Beauty case Ci sono altri Gloss Questi immagino Non siano opachi Un prodotto Non opaco Per labbra In questo video Esiste E questi sono Whipped Fuette Fuette Non so pronunciare Le robe in francese Ormai lo sapete Ma sono Tutti dei gloss Sulle tonalità Del rosa E del nude A parte questo Rosso Fuoco acceso Vedremo come saranno Questi qua E ultima cosa In questo beauty case Ci sono Alcuni Allora Questa è una figata Perché vi ricordate Vi ho parlato Nel video dei preferiti Dell'ombretto Glossi Praticamente Appunto Che mi piaceva tanto E qui Ho scoperto Adesso in questo momento Che la NYX Lo fa identico E c'è sia Trasparente È praticamente un gloss Per gli occhi Che li rende lucidi Che li rende lucidi E mi piace Anche come idea Ad applicare Sopra gli ombretti Per rendere Il tutto Molto lucente È la figata Della NYX Che ne hanno Uno trasparente E uno nero Quindi voglio proprio Vedere come è quello nero Con uno smokey eye Deve essere molto molto carino E altra cosa Che c'è qui Che non so ancora Che cosa sia È Ah è un Uno struccante Per labbra Molto interessante Perché quello che ho di sefora Lo sto per finire Quindi grazie NYX Poi Sempre al beauty con Ci hanno dato un'altra borsa Stratina strapiena Di prodotti Ma siccome C'era appunto Questa mia Cara amica Con me E voi come sapete Io dei prodotti Ne ho tantissimi Sono peli di Denver Che stanno volando ovunque Perdonatemi Ma ho lasciato Gran parte Delle cosine A lei E quindi Io mi sono presa Giusto le robe Che a lei Non servivano Perché abbiamo Pelle e capelli diversi E anche questa Mi sono presa La Barbie Cioè io vi giuro Che ho sentito Che in questa borsa C'era la Barbie Ho fatto di tutto Per avere questa borsa Che in realtà Non era per gli youtuber L'altra era per gli youtuber Questa non so Perché ce l'hanno data Alla fine Probabilmente avanzavano Ma ho fatto di tutto Per averla Perché c'era lei La Barbie E poi mi piace pure Tutta vestita di rosa E starò attenta A non perderci le scarpe Quando ero piccola La prima cosa che perdevo Di tutte le Barbie Erano le scarpe Poi Allora C'è questa crema Della Proactive Mi piace molto Questo brand Ho usato Sia gli idratanti Che i detergenti Che le salviettine struccanti Sono fenomenali Di solito Con le salviettine struccanti Ho dei problemi Perché Tipo quelle della Nivea Mi ricordo Mi lasciavano Anche quelle per le pelli delicate Anche quelle della Garnier Terribili Perché mi lasciavano Proprio Tutto il viso arrossato Mi uscivano proprio Dei brufoletti Con quelle della Proactive Non mi succede E già avevo usato La crema idratante E quindi Appunto Mi sono tenuta questa C'era tutta la linea Di questi prodotti Che ho lasciato a lei Ma la crema idratante L'ho presa Perché è pazzesca Funziona molto molto bene Con la mia pelle Poi c'è allora questo Che sembra un prodotto Tipo Non lo so Da lavoro Sembra silicone Quello che si usa Per riparare Tipo non lo so Le vasche da bagno In realtà È una lozione Per il corpo Sì È una crema idratante Mi è piaciuto Talmente tanto Questo packaging Che E poi non l'avevo mai visto Non avevo mai visto Una cosa del genere E quindi E sembra che sia Che abbia profumo Di pompelmo rosa Annusiamolo subito Sa veramente Di pompelmo rosa Incredibile Mamma mia Vabbè Potrei stare qua Ad annusarlo per ore Finiamola qua Finiamola qua Ci sono questi Nei patch Che già avevate visto Nel video haul Sono stupendi Sono coloratissimi Mi piacciono E poi c'è Allora Questo che è Un Un balsamo Se non sbaglio Sì È un balsamo Al cetriolo Un'altra cosa Che ho trovato E questa è una Novità assoluta Non avevo mai visto Un prodotto del genere Questo è Un blush spray Sì È un blush spray Devo usarlo in un tutore Perché l'ho già provato Perché dovete rendervi conto Di come funziona Questo prodotto Ma è pazzesco E poi mi piace Perché è molto naturale Quindi Cioè vi giuro Dovete vederlo all'azione Perché un blush spray È qualcosa di Inimmaginabile Per me Fino a quando Ho scoperto questo prodotto E adesso penso Che questo prodotto Rivoluzionerà Il mondo del make up E poi Due prodotti Della C C'hai Non so come si pronuncia Questo brand E sono entrambi Volumizzanti per i capelli La mia amica Ha i capelli Che sono tipo una criniera E quindi Mi ha guardato Mi fa Li vuoi tu E quindi Grazie tante No in realtà Non so se è andata proprio così Però a me servono Molto molto di più Che lei E quindi ho preso Entrambi questi prodotti Che servono Per volumizzare i capelli Questo è Un Ah questo è Un prodotto Prefise Una lacca E questo invece È semplicemente Un balsamo Volumizzante Per appunto I capelli E poi Altre cosine Che c'erano Allora qui c'è Una limetta Del mio network Che è Style All E poi Un balsamo labbra Che S'adimenta Che non mi piace tantissimo Non so perché L'abbia preso veramente Ma ha un fattore Di protezione 15 Quindi almeno Qualcoso di positivo Ok poi Sempre al Beverly Center Di Beverly Hills Sono stata Da Steve Madden Questo è un brand Di scarpe Come sapete Che si trova anche qui Ad Amsterdam Ne avremo almeno Tre di negozi Steve Madden Ma qua Ad Amsterdam Uno I saldi Con i saldi Non trovo mai niente Due Se c'è una scarpa Che mi piace Con i saldi Non c'è il mio numero Mentre In America Ho trovato Questo paio di Scarpe Sono Uh aiuto Mincate sempre tutto Quando filmo i video Allora Sono tipo questi Sandaletti Perché sono aperti Davanti Se riuscite a vedere E sono appunto Questi stivaletti Sandaletti Stivaletti Li ho trovati Al 50% Avevano il mio numero Incredibile Ma vero Quando le ho chiesto Sono andata là Ah ma di questi Perché naturalmente In esposizione C'è sempre tipo Il 33 Come numero Però se avete notato Sta cosa Io vado là Scusi Ce l'avete Questa in 40 E lei Sì Io Oddio Non ci posso credere E quindi Questi sono I sandali Che ho preso Sono anche molto Molto comodi Stranamente Arriviamo Alla penultima Borsa Quindi forse Ce la faremo E questa È una borsa Di Guess Non ho preso Tantissime cose Ho preso Semplicemente Questa giacca In pelle È corta Mi piace abbinarla A top Magari un pochino Più lunghi E non credo Sei proprio in pelle Non lo so Comunque È un pochino Lucicante Sbrillucicosa Mi è piaciuta Da subito L'intervista sul manichino Ho detto mia Che tra l'altro Era l'ultima Nella mia taglia E poi Altra cosa Che ho preso Sempre da Guess È questa Canotta È tutta Veramente Non è stirata In questo momento Quindi è praticamente Messa male Però mi è piaciuta Per il colore che ha Che è un pochino più scuro Rispetto a come appare In videocamera Un po' un prugna Ed ha E ha appunto Tutte queste micro perline Insomma Lungo La scollatura Molto carina Anche da abbinare Alla giacchetta Che avete appena visto Qui dentro In realtà Ci sono altre cosine Che non sono Di Guess Ma sono souvenir Che ho preso Allora Prima cosa Che ho preso Vabbè È veramente un cliché Cioè la cosa più banale Però ho preso la maglia I love lei Sì Mi piaceva E ho preso la maglia I love lei E quindi E poi Allora Allora Sì Altra cosa Che ho preso È questo quadretto Che mi ricorda La Walk of fame Che tra l'altro Poi dove avevamo Uno degli hotel Siamo stati in due hotel diversi Ma il primo hotel Era Proprio sulla Walk of fame E insomma Poi mi piaceva Così Rosa È molto carino E poi Altro souvenir Che ho preso È questo Che è la scritta Hollywood Ed è Tutta glitterata Mi piaceva Perché secondo me Sta molto molto bene Come decorazione Come soprammobile Forse le metterò Proprio qua Nel mio studio E arriviamo Al mega acquisto Che ho fatto Credo Il giorno dopo Essere tornata Da Los Angeles Forse un paio di giorni dopo Ma comunque Subito dopo E l'ho messa Insomma L'ho già usata Ma sapevo Di doverla includere In questo video E Tadana Questa è Sì vabbè Niente Tadana Cioè Una busta Prada Adesso vi faccio vedere Il mio acquisto Questa è La dust bag Ed è la mia Prima Primissima Primissimissima Borsa Prada L'unica cosa che ho Di questo brand È un paio di occhiali E adesso Alla mia collezione Di borse Si E tra l'altro È tutta stropicciata Alla mia collezione Di borse Si aggiunge Anche Lei La mia Nuovissima Prada E Come potete Ben vedere Ok Forse adesso Si capisce un po' meglio La forma Ha questo profumo Di pelle Che mi fa impazzire Mi piace un sacco Ed è esattamente La borsa Che volevo L'ho trovata Di questo splendido Marroncino Non ho borse Praticamente Completamente marroni Sono a Louis Vuitton Ma Sì mi è piaciuta Subito subito E ha anche La tracolla L'ho usata anche Con la tracolla Anche se fino tipo All'anno scorso Non usavo mai borse Cioè a tracolla Da adesso mi sta piacendo Un sacco E L'interno È diviso In tre scomparti Ce ne sono due Aperti Così E dentro c'è Il logo Prada Non so se riuscito A vederlo E poi Al centro C'è invece Lo scomparto Con la zip Mi sembra ci sia Un'altra taschina Anche qua al lato Sì E poi ce n'è un'altra Sempre qua al lato Con la zip Mi è piaciuta Subito questa borsa Volevo Da un sacco di tempo Una Una prada Ma Come sapete Non mi faccio Mai prendere Della fretta Tipo vabbè A volte sì A volte sì Devo dire la verità Però Stavolta sono state brave Quindi ho aspettato Di trovare La borsa Che Insomma Che mi piaceva Nel colore Che mi piaceva E quindi Questo per oggi Ragazzi Ragazze È tutto Spero Spero che questo video Non stia durando Troppo Spero che vi sia piaciuto Per qualsiasi cosa Scrivetemi nei commenti Io vi mando un bacio Gigantissimo Sto pensando di andare Adesso su Instagram A postare un giveaway Dei pennelli NYX Perché veramente Sono tantissimi E voglio regalarli A qualcuno di voi E quindi Bacio Alla prossima Ciao Ciao